Buongiorno ragazzi eccoci qua dopo la palestra intanto ho comprato un fantastico oggeggio che mi permetterà di mettere il telefono a braccio, un fantastico oggeggio cinese e lo trovo. Intanto line mi fa incazzare perchè mi dà sulla lista l'app amici due, amici due cose un cazzo amici due, oppure controllate tutte le impostazioni, no, rimane sempre amici due, capirai. Misteri di line. Stanchissimo. Adovoria.